Ciao, sono Astra. Benvenuti in gamesgalaxy.it, l'universo redazionale online. News e recensioni su videogiochi, serie tv, anime e manga, eventi, mondo cosplay e molto altro. Un team di appassionati è pronto ad accogliervi con passione e dedizione. Oggi, a parlarci del Volta, abbiamo due grandissimi fotografi. Angelica e Mali. Oggi andrò a fargli un'intervista per farvi raccontare attraverso le loro esperienze un po' cosa è stato per loro il Volta. Innanzitutto, mi chiedo una breve presentazione. Iniziamo da Angelica. Chi comincia? Ah, grazie. Hai ragione. Hai ragione, hai ragione. Allora, ciao, mi chiamo Angelica, sono una fotografa specializzata in cosplay. Ormai questa cosa l'ho detta un miliardo di volte. E niente, come presentazione posso dire che come fotografa diciamo che punto tantissimo sulla posa, sul colore e cerco sempre di impegnarmi al massimo in quello che faccio. E nello studio del progetto fotografico al meglio delle mie possibilità. I miei personaggi preferiti sono i Furri, ormai lo sanno tutti e quindi devo sempre citare questa realtà in ogni occasione mi capiti a tiro. E diciamo che per me è stato il Volta numero 4. Credo che sia la mia quarta edizione del Volta, penso, se non sbaglio. Provo a fare mente locale un attimo, non mi ricordo se effettivamente è stato il terzo o il quarto, perché c'è stato di mezzo il problema del cambio delle date con il Covid. Secondo me è il quarto, sì. È il quarto Volta che faccio. Passiamo a Mali adesso. Posta. Ciao, io sono Mali, sono un fotografo e mi piacciono un sacco i led. Tanto. Tipo un sacco, non so se si nota. Principalmente mi piace fotografare cosplay con armature, colori, luci, cose flasheggianti importanti. E per me questo è stato il secondo Volta. Partiamo con la prima domanda. Attenzione. Quando e come hai scoperto l'evento del Volta? Siamo sempre in ordine, giusto? Sì, vedete voi chi vuole partire prima. Anche perché a me l'ha fatto scoprire. Dove ce l'ho la Angie? Da che lato ce l'ho? Da me a sinistra. Quindi io ce l'ho di là. No, l'altro dito. Esatto. E quindi a me l'ha fatto scoprire la signorina di là. Quindi, prego. Una parte della domanda è già affrontata. Allora, io ho scoperto il Volta tramite Facebook, in realtà. Perché all'epoca c'era Facebook, diciamo che era uno dei social più usati. Poi lentamente molte persone si sono allontanate da Facebook e hanno preferito altri social per sbagliate ragioni di cui non intendo parlare. Però l'ho scoperto banalmente tramite una condivisione di questo evento che aveva preso piede da poco. C'era da un anno, erano alla prima edizione o alla seconda, al massimo. Comunque c'era stata l'edizione zero. Insomma, era appena partita questa cosa del Volta. Scopro che c'è questo evento fotografico. Io all'epoca non facevo veramente la fotografa a cosplay, ma andavo per le fiere e facevo delle foto a caso. Va bene? Quindi tipico modo di cominciare con cui cominciano tutti. E tra l'altro, quando l'ho scoperto, avevo appena avuto Livio. Vedendo questa pubblicità mi sono detta, va bene, voglio provarci, voglio vedere se riesco ad entrare in questo evento qua. Se ce la faccio, cioè se riesco ad entrare, mi impegnerò tutta l'estate per riuscire a fare delle foto, rieditarle in modo tale che vadano bene per l'iscrizione, eccetera. Se ce la faccio, voglio fare la fotografa, basta. Cioè mi butto nella fotografia tutti gli effetti. Se va, ce l'ho fatta. Ha funzionato. Esatto, è andata alla grande, è andata alla grande. Come hai detto prima, quindi te e mali l'hai scoperto attraverso lei. Io non è che l'ho scoperto tramite Angelica, però diciamo che come lei lo conosco fin dalle prime edizioni, perché comunque, avendo moltissimi amici cosplayer, molti hanno tentato fin dalle prime edizioni. Quindi, come diceva anche Angelica, condivisioni tramite Facebook, chat. Per non parlare poi degli interminabili flame, che l'hanno reso ormai un evento unito nel suo genere, il pre-volta effettivo, contornato da me, ma lasciamo stare. Comunque, il discorso è che fino a qualche anno fa io non ho proprio avuto intenzione di partecipare, perché avevo varie motivazioni, finché Angelica mi fa. Ma sì, ma perché non vieni, tanto ci divertiamo, facciamo le foto, le spese sono belle. Ho detto, vabbè, facciamo. E l'anno scorso, effettivamente, è stato il mio primo tentativo e anche il mio primo volta. Mi avete già risposto anche, praticamente, alla seconda domanda, ovvero, quando e cosa ti ha spinto a partecipare la prima volta e come lo devo finire? Il catarro di Angelo. Esatto. E quindi, Angelica, perché ha voluto usarlo come trampolino di lancio, e Mali, perché è stato, diciamo, convinto da tutti noi bravi uomini. Tutte queste personcine meravigliose che mi circondano. Esatto. Quindi, passo alla successiva, ovvero, quando sei stato selezionato la prima volta che hai fatto richiesta, come ti sei sentito di essere stato accettato? Molto felice, molto, mi sono sentita molto motivata, perché comunque avevo visto i grandi, cioè, i grandi, avevo visto il livello delle persone che comunque mandava l'application al volta, agli altri fotografi che come me partecipavano, e anche i cosplayer, e devo dire che fin dalle prime volte, gioco di parole, è solito, che si fa sempre quando c'è di mezzo al volta, fin dalle prime volte il livello era sempre molto alto, comunque, cioè, perché vedo che ci sono degli altri che stanno nascendo adesso, eventi fotografici, che però non hanno cominciato con lo stesso livello del volta. Io credo che questa cosa qua sia dovuta principalmente all'organizzatore, che comunque è Marco, ed essendo un fotografo molto bravo, che opera e operava come fotografo già da diversi anni nel mondo, cioè, nel mondo dell'ambiente cosplay, probabilmente aveva delle conoscenze, aveva spinto e anche usato la sua influenza per convincere diverse persone di diversi cosplayer e fotografi di alto livello a fare l'application. Aveva fatto, secondo me, questa cosa di public relation. Il livello era molto alto, anche fin dalle prime edizioni. Quindi questo mi ha fatto sentire molto... Ha aumentato la sicurezza in me stessa, lo ammetto, soprattutto perché, come dicevo prima, io non ero proprio in un momento in cui dicevo wow, sono la fotografa più brava del mondo, yeah! No, cioè, ero veramente la prima, l'ultima degli strozzi, se si può dire, non lo so, comunque, insomma, ero l'ultima. Ormai è andata. Esatto, ormai è andata. La teniamo così, va bene. La teniamo così, grazie. Quindi mi sono sentita davvero felice e la sicurezza in me stessa è aumentata e infatti con la scusa di essere stata ammessa ho veramente cominciato un periodo in cui ho dato il massimo per cercare di far vedere quanto potessi valere come fotografa. Hai iniziato a triardare, in pratica. Esatto, ho triardato. Ho fatto triard, ho detto, buona, mi hanno preso e adesso spacco tutti. Esatto, quello. Ah, io devo dire, quando sono stato selezionato la prima volta sono stato molto felice di questa cosa più che altro perché sapevo che avrei creato qualcosa di bello e automaticamente l'essere ammesso al volta nel momento in cui conosci le tue capacità e vedi anche i cosplayer che ne fanno parte sai già che di base farai grandi cose perché hai delle location splendide, dei cosplayer fantastici ovviamente oltre ai fotografi talentosissimi il discorso è di base quando lo vedi sei contento perché sai che ti aspetta sì un weekend di impegno, sbattimento e fatica ma ricompensato da lavori importanti veramente belli e unici nel suo genere quindi fatica in cambio di soddisfazioni immense pertanto quando vieni selezionato hai di base questo e in più la possibilità di incontrare tantissime persone con le quali magari hai legato per lo più online e che fatichi a vedere in giro in un posto che è fondamentalmente dedicato a voi e alla vostra passione cioè è praticamente l'angolo di ritrovo di fotografi e cosplayer dopo il lavoro tu hai il lavoro che è quando si fa il volta e poi alla sera tutti tranquilli per parlare di com'è andata chiacchierare, passare il tempo insomma l'essere preso ti arriva la botta di tutte queste emozioni e fai eh non è male non è male come cosa infatti questo aspetto me l'ha ribadito anche spesso Marco di questa cosa puoi anche creare giusto appunto un clima del genere di far sì la parte seria ma puoi anche riuscirsi a ritrovare la sera yes poi prossima domanda cosa vi spinge a iscrivervi al volta cosa cerchi nell'evento e con quale obiettivo ci vai allora io penso cioè il motivo per cui tutti gli anni continuo a iscrivermi al volta anche se è faticoso anche se è un impegno grosso anche se molto spesso devi avere a che fare con anche l'insoddisfazione delle persone quando vedi che comunque ci metti tanto a editare le foto ci sono un sacco di responsabilità secondo me nel partecipare al volta in quanto tale poi devi anche devi anche cercare durante il set fotografico di di dare il meglio di te perché la persona che viene a scattare con te si aspetta anche un risultato da te quindi tu sei comunque un artista non è che sempre al 100% va tutto bene quindi devi anche tenere sulle spalle questo questo stress che è il ce la farò riuscirò a far sentire la persona con cui sto lavorando felice del mio lavoro quindi diciamo che è stressante come evento cioè non è che c'è solo la parte divertente io continuo a farlo perché innanzitutto mi metto sempre in gioco cioè la cosa del mettermi sempre in gioco del cercare di migliorare del non adagiarmi troppo nella mia zona di comfort mi permette di crescere come artista anno dopo anno anche poco anche in in un in un mondo in cui sei molto molto impegnato e non hai tanto tempo per prenderti il tempo che ti serve per fare il level up quindi il volta è una scusa per dire bene vado avanti lo faccio la seconda ragione è il portfolio io sono una fotografa che tiene moltissimo al portfolio e e quindi per me è importantissimo che tale portfolio rimanga aggiornato cioè sono una di quelle persone che non che pensa di non poter stare con le stesse foto anche per quanto bene mi siano venute quelle foto nel corso degli anni io non posso avere sempre lo stesso portfolio perché mi sentirei un po' inadatta alla crescita appunto del di come si evolve l'ambiente bisogna dimostrare di essere anche migliorati nel corso del tempo esatto esattamente quindi lo faccio moltissimo anche per questo perché voglio mantenere aggiornato il portfolio con progetti sempre nuovi e foto sempre nuove è giustissimo come ragionamento infatti io lo condivido in pieno perché il volta è un ottimo modo per rinnovare il proprio portfolio ma per quanto mi riguarda è anche un ottimo modo per sperimentare direttamente ad alto livello nel senso che spesso e volentieri quando qualcuno vuole sperimentare qualcosa magari una lente nuova un nuovo metodo di editing e cose lo fa senza spingersi troppo in là ecco io ad esempio questo volta ho scattato tutto con obiettivi che non ho mai usato in vita mia perché sì perché è un modo per scattare con persone che sanno cosa stanno facendo tu sai cosa stai facendo e di conseguenza se c'è una minima difficoltà ci si può aiutare a vicenda perché entrambi siete in grado di fare quello che state creando di conseguenza ciò che ti motiva di più per andare al volta per quanto mi riguarda è il fatto proprio di appunto sapere di avere a che fare con persone che sanno cosa fanno sanno cosa vogliono e ti permettono di dare il massimo sia a livello pratico che a livello psicologico tu hai un'idea riesci a realizzarla al 99% salvo imprevisti incredibili e non citerò perché ne abbiamo avuti tutti come giustamente succede però al 99% tu riesci a fare quello che hai in testa che solitamente non succede ma qui tra appunto come dicevo già prima location fantastiche cosplayer fantastici fotografi altrettanto meravigliosi il risultato si ottiene si ottiene ottieni delle foto fai dei bellissimi lavori e poi come diceva Angelica si ripete tutto portfoglio qualità situazioni miglioramenti e si continua ad andare avanti all'infinito molto bene e poi il lato social lato social del volto è importante non dimenticatelo molto no no hai perfettamente ragione le persone quant'altro no ma non è tanto le relazioni perché se non ho detto così sembra quasi sai il devo conoscere la gente ma non è quello è il finire di lavorare alle 8 9 quando non si scatta la sera tardi e cose andare a casa darsi una sistemata tornare fuori e mangiare con la gente con cui è scattato al pomeriggio bere insieme altri fotografi chiacchierare del più e del meno cioè è come trovarsi in un circolo di fotocosplay dedicato appunto a quest'hobby nello specifico ed è veramente fantastico visto che purtroppo esistono i circoli di fotografia non esistono i circoli di fotocosplay quindi credo sia veramente una delle poche occasioni in cui puoi trovare tutti gli appassionati del settore che come te condividono questa passione e che sono lì per quello per fare e poi chiacchierare parlare discutere del più o del meno e per quanto mi riguarda è un lato veramente importante del volta ma davvero tanto concordo in pieno che essendo stata anche per me la prima esperienza mi sono trovato molto bene e vorrei tornarci giusto appunto giusto anche per questo clima che hanno voluto creare post diciamo lavoro esatto che quest'anno sono stati tanti anche gli assistenti proprio perché molte persone volevano partecipare alla parte social cioè anche se non hanno potuto partecipare magari come partecipanti ufficiali sono comunque entrati dentro i partecipanti ufficiali con questa con questa cosa importantissima che il volta dà esatto io per mia cosa personale ho detto che praticamente è un specie di rimini ma tra privati tra è la sera la sera sì la sera sì ci si siede si sta tranquilli quattro chiacchiere birrettina si fa bellissimo gli arrosticini esatto poi ci sono i tavoloni che ti puoi sedere lì sono liberi alla fine cioè puoi proprio metterti lì tranquillo sì sì è bello e alla fine anche non volendolo conosci tutti è vero io credo di non aver di non aver non salutato una persona tutti almeno una volta li ho salutati partecipanti del volta la cosa che vi piace di più del volta allora la cosa che mi piace di più del volta ancora la tana dell'elfo no diciamo che no però Mali ammettiamolo la tana dell'elfo è limitata cioè tutto per te non è una una di quelle cose che tu metteresti comunque nella top 3 cioè noi possiamo fare quelli seri finché vogliamo però lo sappiamo entrambi che nel nostro profondo la cosa che ci piace di più del volta è che praticamente abbiamo la tana per noi tana dell'elfo per 200 persone ma di che cosa stiamo parlando ragazzi è uno è uno dei tre top motivi che mi hanno incentivato ad andare al volta la prima volta e non sto scherzando perché ci sono dei cospini bravissimi e io sì ok ci sono delle location fantastiche c'è la tana dell'elfo per noi scusa andiamo subito adesso in che senso c'è la tana dell'elfo ah non lo sai Marco da quest'anno ha messo la tana dell'elfo viene apposta per è ora dobbiamo andare abbiamo una missione da compiere quell'antico vaso andava a falmare ci sta chiamando esatto quindi sì direi che all'unanimità penso che possiamo dire questa cosa anche se dovremmo la gente pensa veramente che il volta è solo la tana dell'elfo è uno dei motivi importanti per il social perché vi assicuro che senza la tana dell'elfo la social life del volta sarebbe molto molto più pacata ridotta con la tana dell'elfo diventa tutto incredibile sarebbe anche più dispersa aggiungerò secondo me perché essendo che comunque è solo da quest'anno che ci sono stati i banchetti diciamo per mangiare tutti insieme lì e che penso che continueranno anche gli anni prossimi solitamente per mangiare al volta dovevi dividerti tra i vari ristoranti tra i vari posti per mangiare eccetera invece quest'anno invece quest'anno c'è proprio stato anche dal punto di vista del ritrovo comune serale anche la parte della cena che molto spesso appunto veniva si disperdeva si disperdeva per forza di cose perché appunto non c'era da mangiare per tutti lì all'info point quindi tornando alla domanda originale qual è una delle cose più importanti del volta per quanto mi riguarda l'abbinamento location cosplayer fantastico cioè proprio posti splendidi perché volta mantovana e cavriana offrono degli scorci incredibili per quanto mi riguarda abbinato appunto a un quantitativo infinito di cosplayer talentosissimi bravissimi super capaci di posare craftare sistemare tutto quello che volete questo abbinamento meraviglioso per me da fotografo dà vita a il punto forte del volta per un cosplayer ovviamente magari la stessa cosa però con i fotografi per dire per me la cosa più bella invece allora a parte la Tana è quella è il fatto che mi dà la possibilità di scattare con persone con cui non ho mai scattato quindi tutte le cose che ha detto mali giustissime però magari io ho spesso possibilità di scattare con cosplayer bravi anche fuori dal volta invece nel volta mi piace particolarmente perché posso conoscere dei cosplayer che non conoscevo e soprattutto ho la possibilità di scattare con tante persone che vengono dall'estero e che è molto difficile è molto difficile perché esatto è importantissimo perché tu per andare a scattare con quelli con i cosplayer esteri o loro vengono a una fiera perché hai la botta che vogliono venire a vedere l'Italia eccetera eccetera oppure sei tu che devi andare magari a una fiera molto distante per riuscire a scattare con qualche straniero invece il volta essendo che è diventato nel tempo un evento internazionale soprattutto negli ultimi due anni se non tre ha avuto tantissime adesioni di sia fotografi che cosplayer dall'estero e questa è una cosa che al momento penso che a livello serio sia la cosa che mi piace di più del volta confermo anche a me è una di quelle cose che piace davvero tanto infatti io mi tengo sempre almeno la metà dei set per persone extra Italia perché praticamente hai questa possibilità di scattare con loro fai benissimo è un'ottima scelta io così o comunque dico voglio sempre dare la priorità a persone con cui non ho mai scattato proprio per per fare esperienze nuove anche per conoscenze per fare conoscenze nuove vedere come mi trovo diversificare un po' anche il porto sì esatto esatto cosa di speciale per voi il volta di speciale di speciale nel particolare è che tutti questi progetti li puoi fare in tre giorni come se fosse una fiera cioè non devi farli distaccati in tanto tempo ma hai l'opportunità di organizzarli in un tempo molto ridotto e quindi puoi preventivare che in quei tre giorni lì fai tutto il portfoglio dell'anno quindi questa è una cosa che è molto speciale cioè perché tu riesci in poco tempo a portarti a casa i tuoi set i tuoi dream set per tutto l'anno ecco sai secondo me cosa c'è di veramente speciale che la gente non valuta ma è tanto importante il clima che si viene a creare al volta nel senso che quando per chi lo fa quando si va a fare un set fotografico cosplay c'è sempre un po' quell'ansia di adesso magari la gente viene a darci fastidio arrivano persone a rompere le scatole ci sono problemi col posto lì al volta questi problemi non si pongono perché i luoghi sono tutti per noi le persone che ci sono dentro sono a fare la stessa cosa che devi fare tu ci si aiuta la vicenda e ci si conosce praticamente tutti quindi il clima che si viene a creare è rilassatissimo dedicato al 100% a quello senza troppe intrusioni a parte quando le cosplayer vengono assaltate dai bambini dell'asilo sì a me è capitato momenti magici forse me l'avevi pure accennato di bambini dell'asilo molto divertente però a parte qualche piccolo inconveniente appunto è tutto per quanto mi riguarda incentrato al 100% su quello è decisamente rilassato a livello di preoccupazioni riguardo altre persone esterne al settore o problemi di sorta per quello non ce ne sono i luoghi sono quasi tutti agibilissimi e senza problemi le persone sono controllate all'ingresso da appunto quelli che lavorano lì dai minions quest'anno e insomma ti lascia proprio la serenità di dover pensare solo ed esclusivamente al che cosa faccio o faccio bene è una cosa che anche Mark ma nelle interviste che ha fatto a lui mi ha ribadito di questa cosa di cercare sempre di creare questo clima e adesso concludo con l'ultima domanda che diciamo è un po' il riassunto mettiamola così perché mi avete già detto parecchie cose che possono rispondere a questa domanda ovvero cosa ti lascia il Volta come esperienza come emozioni? un sacco di backlog è vero allora come emozioni mi lascia la consapevolezza di come tra l'altro accennava male anche all'inizio di aver creato qualcosa che veramente è un backup di tutte le cose che hai imparato e migliorato nel corso del tuo anno cioè è un po' come è un po' come un paletto è un po' come un checkpoint diciamo cioè tu praticamente tutto l'anno tutto il tuo anno tu lavori facendo set fotografici facendo magari dei tutorial per migliorare facendo degli upgrade con dei nuovi obiettivi come diceva Mali o con delle nuove luci con dei nuovi flash oppure anche solamente sperimenti cose nuove vai a studiare i lavori di altri per vedere se riesci anche un po' a farli tuoi e a migliorare qualcosa e tu tutte queste cose le cioè diventano un checkpoint del Volta perché tu arrivi al Volta dove hai veramente l'opportunità di mettere in pratica tutto quello che hai guadagnato durante l'anno o far vedere quante di quelle cose sono andate bene quante invece sono andate male e e da tutto questo ricavare il tuo il tuo backup cioè il backup del meglio che tu sei riuscito a rinchiudere nel tuo anno di lavoro quindi secondo me questo come a livello emotivo mi lascia molto mi fa sentire una un artista migliore ecco quindi questo se può essere una risposta io trovo che per me sia questo invece io trovo che a livello emotivo il Volta ti dia la possibilità appunto di conoscere tantissime persone nuove stringere legami con persone appunto che magari hai conosciuto solo su internet e comunque fortificare rapporti con gente che magari già conoscevi prima perché ripeto sono tre giorni di full immersion nella tua passione con persone che la condividono quindi raga il concetto è che si va a stare proprio con quelle persone che ti comprendono al cento per cento del cosa stai facendo e perché lo fai e quindi a livello umano per quanto mi riguarda il Volta è bellissimo da vivere è veramente fantastico e appunto poi l'emozione che ti lascia come diceva già Angelica di migliorare ogni anno e ogni anno al Volta riproporsi essere magari apprezzati anche di più dai cosplayer stessi e riuscire poi ad apprezzare di più se stessi dai lavori che si fanno è fantastico perché appunto riesci già a validarti da solo guardando i risultati passi all'anno prima e dici cavolo l'anno scorso ho fatto delle belle foto ma quest'anno porca miseria un anno di studi preparazioni training corsi e cose e effettivamente poi i risultati sono qui li vedi ce li hai sotto mano e uniti appunto al lato umano di prima con il quale si discute anche di questa cosa viene su un mix incredibile di emozioni bellissime è una bella sensazione si da proprio soddisfazione credo cioè veramente tanto si concludo con comunque ringraziarmi per avermi concesso il vostro tempo e per avermi fatto fare l'intervista sono 25 euro esatto esatto sappi che noi comunque non facciamo mai niente a gratis mi dispiace c'è un problema mandi l'indirizzo si fa tutto esatto esatto a posto allora vi chiedo un saluto alla Games Galaxy un saluto agli amici di Games Galaxy ciao ciao grazie mille per questa intervista e ci sentiamo alla prossima va bene ciao 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 fortissimo super forte oh le mie mani si farfallavano farfallatissima non è mica da tutti non è mica da tutti guarda Angelica sono talmente veloce che non le vedi muoversi incredibile it's over 9000 ciao 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 ciao